Che cos'è chunjè? È una nota musicale della scala pentatonica cinese? Il primo giorno di scuola in Cina o un piatto tipico della regione del Sichuan oppure il nome di un punto di agopuntura? Niente di tutto questo. Chunjè è il capodanno cinese. Si tratta del primo giorno di primavera, un giorno che cade alla prima luna nuova dopo il sostizio d'inverno in un giorno che ogni anno è diverso e che cade tra il 21 gennaio e il 19 febbraio. Chi non conosce chunjè probabilmente non conosce nemmeno l'agopuntura e la medicina cinese. Volete saperne di più? Video di medicina. Dall'Italia alla Cina. A cura del dottor Lucio Sotte visita il sito internet www.luciosotte.it per informazioni su agopuntura, medicina cinese e medicina integrata.